Allarme rosso per il sindaco Spalletta da Via del Castello. Chi passasse per questa strada, poco più giù, potrebbe vedere un cartello dove c'è scritto Consegna Opera 2008. Ora questo cantiere sta in piedi non so da quanto tempo e non c'è un consigliere comunale che ci vada a buttare uno sguardo. Allora perché io dico allarme rosso per il sindaco Spalletta? Perché dismesso il pennacchio il consigliere Duffizi ha ritrovato la vista anche se è perso la memoria e nel recente consiglio comunale ha parlato di sistema mafioso al comune di frascati. Ecco, io credo che entro il 15 ottobre il sindaco Spalletta debba fare qualche riflessione perché dopo il 15 ottobre finita la luna di miele questo problema del sistema mafioso dovrà essere per forza di cose indagato. Che fenomeno il consigliere Duffizi. In due mesi ha scoperto la mafia però ha perso la memoria.